Detto fatto, missione compiuta. Presidente Di Giovanni, lo aveva detto con forza ad agosto, via da questa categoria, vogliamo tornare in serie D. Complimenti. Grazie Enrico, io te l'avevo detto la prima volta che mi hai invitato in trasmissione, era un impegno che mi ero preso con la città e credo di averlo mantenuto con grandi sforzi e i grandi sacrifici di quest'anno. La stagione raccontata in 60 secondi. Una stagione che è iniziata con un momento di incertezza che ci ha un po' spiazzato all'inizio e che però ha visto poi trovare attraverso il cambio di allenatore la quadra, la via giusta per risolvere qualche problematica che all'inizio ci aveva creato qualche momento di apprezzione. L'arrivo di Lucarelli, la squadra che comincia a prendere coscienza dei propri mezzi e poi io credo a San Buceto il punto di svolta. Una partita decisiva per l'intero corso del campionato nella quale il Chieti credo che abbia dato un segnale di forza che poi sia stato quello decisivo verso la pollata finale. Lucarelli confermato, sarà l'allenatore del Chieti in serie D? Ma adesso sicuramente ripartiamo da Lucarelli per fare ogni ragionamento, però comunque adesso dobbiamo finire il campionato, dobbiamo sederci, svilupperemo un progetto e dentro questo progetto valuteremo anche chi sarà la guida tecnica. Quindi ancora non è così sicuro, Lucarelli? Beh, le cose sono sicure quando si firmano i contratti. Questione societaria, nel senso che adesso tutta la città di Chieti, ora che è stato centrato l'obiettivo, Presidente, vuole sapere quale sarà il futuro. Solida quanto questa società, come procedono le trattative, visto che lei quando promette mantiene, lo ha dimostrato riportando il Chieti in serie D, che cosa si sente di promettere per il futuro societario? Mi sento di promettere il massimo impegno, come d'altronde è stato fatto quest'anno, per cercare di costruire una società che abbia basi più solide ancora, perché il campionato di serie D è un campionato in una categoria decisamente più impegnativa, dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista economico. Bisogna lavorare in questa direzione, abbiamo già cominciato a farlo, sicuramente questa è una società che vuole allargarsi e vuole farlo attingendo a quelle che possono essere le migliori energie di questo territorio e non solo. Chieti è un brand che calcisticamente tira, tira tanto, dobbiamo valorizzare questo capitale calcistico immettendovi risorse umane ed economiche che permettano alla società di poter affrontare in maniera più che degna una serie D, che è il campionato che ci aspetta l'anno prossimo. Le preoccupazioni ci sono sempre Enrico, fanno parte delle sfide che ogni imprenditore sceglie di intraprendere ma aiutano a lavorare meglio.